Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, oggi 8bit si supera perché dopo avervi portato in America, dopo avervi portato in Canada, dopo avervi portato in Malesia dopo avervi portato in giro per il mondo, oggi vi porto in un posto dove non avrei mai pensato di riuscire a portarvi andiamo a fare toy hunting, vi faccio vedere un negozio di giocattoli l'avrete visto dalla copertina a Cuba ragazzi, a Cuba che cosa c'è in un negozio di giocattoli a Cuba? con cosa giocano i ragazzini a Cuba? beh, 8bit vi ci porta e ve lo faccio vedere grazie a mia sorella Sara che ha girato questo video per me direttamente all'Havana buon divertimento Havana, Cuba grazie a tutti 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 grazie a tutti